Ora abbiamo il terzo importante ragazzo, il ruolo tra l'arraggio e il driver è l'enginio, e questo è il signor Binotto. Voglio introdurre a te che è l'ingegnero di engine e ora il leader del gruppo dell'enginio, signor Binotto. E magari puoi spiegare un po' di cosa fai nel carico durante un'esercizio di raccoglione e così via. Ok, in italiano... In italiano... Durante il weekend sono impegnato a seguire l'affidabilità, il corretto funzionamento del motore sulla vettura di Michael, e quindi assicurarsi che tutto vada come debba andare, ottenere la massima prestazione e la massima affidabilità dal prodotto che conosciamo. E quindi assieme a lui è importante che noi collochiamo per garantire il corretto funzionamento dell'insieme. Esatto. Grazie e ci vediamo per la meeting. No, no, dopo. No, ok.